Rosso? La Juventus? La Juventus è sopra noi di un punto ragazzi, quindi se noi vinciamo diventiamo automaticamente primi in classifica, quindi importa solamente vincere. Andiamo a vedere anche oggi le altre partite che faremo. Juventus, poi Coppa Italia con la Fiorentina e ci potrebbe stare anche un match col Palermo. Ragazzi, due match fantastici perché la Fiorentina ci fa sempre il culo, a parte quello. Ah, però c'è anche il ritorno di Coppa Italia, quindi c'è anche il ritorno ragazzi. Oh, ma è la finale? Ah no, sono le semifinali, però c'è anche il ritorno. Ok, sì, semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, però c'è anche il ritorno, quindi si potrebbe fare anche il match col Palermo. Allora ragazzi, ne approfitto prima per ringraziarvi ragazzi, come al solito, perché mi date sempre un grandissimo supporto. E guardate qui, questi sono tutti i nomi, spero che si veda. Questi sono tutti i nomi, rimetti il mio fuoco, bello. Sono tutti i nomi che devo salutare, quindi adesso perdo un attimo, qualche secondo per salutare alcuni di voi che mi hanno chiesto appunto di essere salutati. Vi saluto Andre. Ale U, Guerriero Nero Azzurro 2002, Edoardo Marzi, Carmelo Stancampiano, Simone Lomastro, Solo Noi, Nicola Giannoni, Cide Onu, Piero Segreto, Antonio Marrone e ultimo, ma non ultimo, Angelo Russo. Signori, scusate se ho perso un attimo questi secondi, ma non sono persi per salutarvi. Volevo parlarvi anche di un'altra cosa. L'episodio numero 6 di questa carriera è stato cancellato da YouTube, perché mi è arrivato un messaggio da YouTube dicendomi che il titolo era spammoso e non andava bene. E il titolo era Sfida Inter-Juve. Io non so perché, ma YouTube mi ha cancellato così un episodio della carriera dell'allenatore. Questo campionato, come ho già detto, lo farò tutto a difficoltà campione, mentre il prossimo, dove ci sarà anche molto probabilmente la Champions League, lo farò anche a leggenda. Ok ragazzi, andiamoci a giocare questo match con la Juventus, però direi che cambierei i rovesci perché veramente non si possono vedere. E poi cambierei un po' la formazione. Faccio giocare Mauro Riccardi in un 4-2-3-1 dove posiziono Griezmann a destra, se lo trovassi. Metterai Felipe Anderson a sinistra, al posto di Mares come punta metterei Icardi e direi che così ci siamo, a parte Nukuri che lo cambio con Dogbia e Murillo che lo cambio con Musacchio. Poi pronti a subentrare direi che c'è la gente giusta, assolutamente. Direi che ci possiamo giocare questo match con la Juventus con questa squadra qua ragazzi. Juventus-Inter, siamo allo Juventus Stadium ragazzi. Un punto separa queste due squadre dal primato in classifica. La Juventus a 59, l'Inter a 58 e oggi scontro diretto. Oggi è la partita della verità, il pareggio non ci serve a niente ragazzi, dobbiamo solamente vincere. Spero con questa formazione di riuscire a colpire in qualche modo questa Juventus che quest'anno è veramente, veramente fortissima. Filipe Anderson, bella palla per Cialanoglu. C'è largo Griezmann, attenzione Griezmann, davanti a Buffon, il tiro di Griezmann! Antoine Griezmann! 1-0! Che gol di Antoine Griezmann! Sono illuminatissimo ragazzi, non so per quale assurdo motivo. Così? Vi piaccio di più? 1-0 Inter! Grande azione! Mamma mia! Qui, ottimo lavoro di tutti da Filipe Anderson a Cialanoglu che ha atteso il momento giusto e è andato un pallino d'oro. Ma qua Griezmann ha fatto un lavoro splendido. L'ha messa dove Buffon non poteva arrivare. 1-0 Inter dopo 15 minuti. Continuiamo così adesso, dobbiamo mantenere questo approccio di squadra. Juxo, Tielemans, per Riccardi. C'era in mezzo, bellissimo Cialanoglu! Era bellissimo, fantastico. Sempre perché la Juventus qua attacca già in pop a magna eh. Qua sono già tutti su. Bella palla di Juxo per Filipe Anderson che è più veloce di tutti. La mette in mezzo Filipe Anderson! Ma che intervento è questo di Barzagli ragazzi? Ma si può fare un intervento del genere? Questo è un minimo cartellino giallo, minimo. Infatti è così. In guarda c'è l'anoglu del calcio d'angolo. Stacca Griezmann! Che stacco perfetto! Forse è troppo perfetto. La palla finisce precisamente nelle mani di Buffon. Ancora Juxo e ancora Filipe Anderson. Che può andare steso di nuovo da Licksteiner. Ma cos'è sta roba ragazzi? Ma cos'è sta roba? Ma si può? Cartellino giallo anche per Stefan Licksteiner. Due su quattro uomini della difesa della Juve sono ammoniti. Quattro minuti di recupero intanto. Cambio gioco di Florenzi per Filipe Anderson. Filipe Anderson. C'è Tielemans. Attenzione! Calcio di rigore per l'Inter! Fallo di Licksteiner su Tielemans. Ma lo riammonisce. Forse un calcio di rigore un po' generoso. Decisamente ragazzi. Questa simulazione di Tielemans. Non sarebbe quasi giusto farlo. Ma nel calcio non succede così. Attenzione a Cialanoglu. Il tiro di Cialanoglu! È giusto così. Ottima parata di Buffon ragazzi. Giusto così. Il rigore non c'era. E finisce qui il primo tempo. Giusto così ma peccato cazzo perché non era male passare la fine del primo tempo sul 2-0. Comunque riprendiamo e giochiamo il nostro match perché comunque siamo in vantaggio. Si vede invece Griezmann che usa tutto il suo fisico per fare qualcosa di buono. Attenzione a Cialanoglu. C'è conto con... Pereira! Uno pari. Con che facilità ha tirato questo pallone Pereira. Buon lavoro di Masovic qui. che ha tenuto il pallone. Ha aspettato l'inserimento di Pereira che non è stato pressato da nessuno. E la Juventus pareggia e adesso mi pesa molto quel rigore sbagliato sinceramente. no 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 ragazzi io non ci posso credere. Perché non è andato sul pallone Nardi? Rosso? Espulso Nardi ragazzi. Ah niente metto Meret al posto di Icardi. Chiedetemi perché non è entrato sul pallone Nardi. Comunque Meret contro Manzokic. Il tiro di Meret! Il tiro di Manzokic ragazzi. Meret para il rigore. Oh mio Dio. Miracolo di Meret. Adesso siamo in uno in meno ragazzi. In uno in meno contro la Juve. Siamo ammorata. Dobbiamo avere tanto cuore. È qui però sto fallo da dietro che è il terzo. Porca puttana. Ammonito chi è? Chiellini? Bonucci che cazzo ne so. Ma guarda te. Fallo di Ciannoglu da dietro espulso. Espulso Ciannoglu. Inter in nove. Pazzesco. Pazzesco. Espulso Ciannoglu. Inter in nove. Tre falli della Juventus da dietro e neanche un espulso. Vediamo questo fallo. Vediamo questo fallo di Marchisio. Baggatissimo neanche ammonito mi sa eh. Eh no. Neanche ammonito ragazzi. Neanche ammonito. Quei Florenzi la mette in mezzo dove c'è Griezmann. Centrale. Griezmann. Questione che palla per Kondogbia. Il tiro di Kondogbia. Sì. Sì Kondogbia. 2 a 1. 2 a 1 per l'Inter. Mamma mia che gol di Kondogbia ragazzi. Ma andiamo. Andiamo così. Oh porca puttana non ci credo. Gran palla di Griezmann ma qui gran movimento anche di Kondogbia. Poi la finita su Chiellini. Su Bonucci credo non lo so. E poi un gran tiro a giro. E adesso ragazzi ci copriamo. Adesso ci copriamo. Siamo in 9 contro 11 e ci copriamo. Vaffanculo. Io parcheggio l'autobus. 5-3-2 via. Sì. L'unico che posso fare è questa formazione. 5-3-2 tutti dietro. Bisogna mantenere questo risultato ragazzi. 10 minuti alla fine. e adesso noi siamo tutti qua. Ce ne può andare Griezmann. Ce ne può andare Griezmann ragazzi. Ce ne va Griezmann. Tira là. Tira là Antoine. Tira là. È da solo ragazzi. È da solo. Ancora Griezmann. Ce ne va. Ce ne va. E via. Ottimo lavoro qua di Griezmann. Via la palla. Via la palla. 4 minuti alla fine. 4 minuti alla fine. Sì Luke. Oddio. Che cazzo ci fai lì Miranda? Secondo via. E ancora l'Inter. E ancora l'Inter che tiene sul pallone. E ancora l'Inter che tiene sul pallone. 3 minuti di recupero ragazzi. Via via. Tutti dietro. Dai che è quasi finita. Guardate Licksteiner. Guardate cosa ha fatto Licksteiner. Il tiro. Oddio. Sì Zazza. Sbaglia tutto Zazza. E finisce qua. 2-1. Che match signori. Cos'è successo in questo match? Cos'è successo in questa partita? Mamma che vittoria. Che partita spettacolare. È successo veramente di tutto ragazzi. È successo veramente di tutto. Abbiamo usato la testa. Abbiamo difeso benissimo. E ci siamo portati a casa questa vittoria. Che ci fa andare. Primi. In classifica ragazzi. Primi in classifica. Porca miseria. Non ci credo. È questa. Siamo primi in classifica. Con questo gran match contro la Juventus. Bene così. Bene così. Adesso ci dobbiamo concentrare. Sul match con la Fiorentina. Prima però. Proverei a fare qualche allenamento. Non male questi allenamenti. Devo dire. Masuaku si prende una bella A. E adesso gli aspetta anche di giocare. Ok. Andiamo a giocarci questo match con la Fiorentina. Facendo qualche cambio di formazione. Un po' di turnover. Ci sta ragazzi. Ci sta assolutamente. Ok ragazzi. Direi che possiamo sfidare la Fiore. Con questa formazione. Che è sì turnover. Però comunque i giocatori sarebbero. Sono tutti ottimi giocatori. Anzi. Noi dobbiamo vincere a questa Coppa. Perché è negli obiettivi della società. Quindi Inter Fiorentina. Andata di Coppa Italia. Non so perché. Hanno messo. Andata e ritorno le semifinali. Comunque. Tanto vi legge un diluvio universale. Subito Iaic. Pericoloso. Attenzione. Apre in due la difesa. Attenzione. Adem Iaic. Il tiro di Adem Iaic. Un tiro bruttissimo. Un tiro bruttissimo. Ancora Tielemass. Che bella palla per Mares. Il tiro di Mares. Il pallone va esattamente dove era andato il tiro di Iaic. Pochi minuti prima. Due minuti di recupero intanto. Ma è veramente un dominio viola ragazzi. Un dominio della Fiorentina qua. Sono 40 minuti che sono qui dalla mia area. Io non so come fare. Non so come fare ad andarmene. Giocano un calcio splendido. Attenzione a Palacio. Buona la palla per Iaic. Che subisce fallo. Ed è calcio di rigore per l'Inter. Calcio di rigore per l'Inter. Fallo di Marco Salonso. Su Adam Iaic. Espulso Marco Salonso. E quindi la Fiorentina è in 10. Vediamo qua. Iaic la stava mettendo in mezzo. E Marco Salonso lo colpisce in pieno. Faccio tirare a Icardi. Appena entrato. Attenzione a Mauro Icardi. 1-0 per l'Inter. Mauro Icardi appena entrato. Gran rigore calciato dall'argentino. Mamma mia. Imparabile questa per Tatarusano. Rivediamo il calcio di rigore. Pam. Ottimo. Ottimo rigore calciato da Mauro Icardi. Che appena entrato nel posto di Reimanai. Ho fatto anche un altro cambio. È uscito Marez. E ho messo dietro Icardi. Unica punta. Rodrigo Palacio. Corade Iaic. La mette in mezzo dove c'è Mauro Icardi. Ma esce bene Tatarusano. 86esimo. Sarebbe bene finire la partita così senza subire gol. Ancora l'Inter però con Nukuri. Rodrigo Palacio. Che la mette in mezzo dove c'è Icardi. 2-0. Mauro Icardi. Gran palla di Palacio. Socialmente non era proprio per lui. Anzi era per Nukuri. Ma qui ragazzi. La palla di Palacio è spettacolare. Spettacolare. Poi Tatarusano non si sa cosa abbia fatto. Ma qua Icardi lo buca. E firma il 2-0. Finisce qui. 2-0 per l'Inter. Grande match di personalità. Ottima in fase difensiva. E siamo stati abbastanza bravi anche in fase offensiva. Il rigore ci ha aperto un po' la partita a metà. Poi siamo stati bravi a raddoppiare. Ok. Andiamoci a giocare questo match con il Palermo. Altanto importante per cercare di mantenere la Juventus al suo posto. Direi 4-2-3-1. Con Griezmann dietro a Icardi. C'è la NoGlu fuori. Tre. Nike Williams. E... Felipe Anderson. Sì. Direi che questa formazione mi soddisfa. E mi andrei a giocare questo match con il Palermo. Direi che si può partire. Dobbiamo stare qui con la testa. Peccato per questo sole che lascia questa ombra che non mi fa vedere un cacchio. Si vede malissimo. Comunque subito il Palermo che parte forte con Morganella. La mette in mezzo. Chiude Musacchio. Con dare Nike Williams. Bella palla per Icardi. C'è in mezzo Griezmann. Non sbagliarlo. Ancora Icardi. Mauro Icardi. 1-0 per l'Inter. Bellissima azione. Del report offensivo dell'Inter. Qua tutto bene di Nike Williams. Poi Icardi vede in mezzo Griezmann. Che tira ma viene rimpallato. Poi fortunatamente il pallone rimane lì. E Mauro Icardi riesce a insaccare in scivolata. 1-0 per l'Inter dopo 15 minuti. Griezmann. Bella palla per Icardi. Che rientra. C'è Andelcovic su di lui. Ancora Mauro Icardi. Che se ne va con un numero. Poi prova il tiro di sinistro. Ma Sorrentino chiude lo specchio molto bene. Ottimo recupero di Tielemans. Poi c'è la Noglu. Aspetta l'arrivo di Nike Williams. Che se ne può andare. Con un numero. Ancora Nike Williams. Il tiro di... In Bolzoni. Che intervento pazzesco. Inaki Williams. Percià la Noglu. La mette in mezzo. Dove c'è Tielemans? Che stacco imperioso di Yuri Tielemans. Quanto copia. Gran palla percià la Noglu. Davanti a Sorrentino. Madonna ragazzi. Che gol di Tielemans. Come faccio a tenerlo in panchina un ragazzo così? È fenomenale. È fenomenale ragazzi. Gran palla di conto QBH. Senza dubbio. Poi Cialanoglu fa un passo in avanti. Incrocia di Mancino. Tiro sotto l'angolino. Pazzesco. Sei gol in Serie A per la cancia da Noglu. Fondamentale questo ragazzo. Conto QBH. Per Cialanoglu. Il tiro! Di pochissimo sopra la traversa. Ha tirato in un fazzoletto Cialanoglu. Attenzione qua Riccardi. Ancora Cialanoglu. La palla resta lì. Riccardi. C'ha Felipe Anderson. Felipe Anderson. Sorrentino. Gli chiude lo specchio. Nucky Williams. Si accentra. Attenzione perché può tirare. Il tiro di Nucky Williams. Anche questo centrale. Due minuti di recupero intanto. Finisce qui signori. 2-0 per l'Inter. Manteniamo la prima posizione in classifica. Giocatore infortunato. Jason Murillo ha subito un infortunio e sarà indisponibile per tre mesi. Si è spaccato una caviglia Murillo. Andiamo a vedere la classifica ragazzi. Questa è la classifica. 64 punti per noi. 62 per la Juventus. E a tre punti della Juventus c'è la Lazio. Che è l'unica che può contendersi il secondo barra primo posto. Mentre in zona di retrocessione c'è il Carpi, il Bologna e l'Atalanta. Poi andiamo a vedere un attimo anche quali saranno i prossimi match della giornata prossima. Direi Bologna, big match contro la Roma. E poi direi il Torino ragazzi. Va bene ragazzi. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Mi raccomando vi ricordo di lasciare un mi piace. Un commento, un consiglio. Noi ci vediamo. Un prossimo video della carriera allenatore con FIFA. Che ricordo per proprio mio tempo disponibile. Probabilmente arriverà una barra due volte a settimana. Una la domenica mattina e una metà settimana. Mercoledì o giovedì. Comunque vedo come riesco a organizzarmi ragazzi. Vi ricordo che io vado all'università. Quindi faccio un po' fatica. Non so perché sono sempre illuminato da Dio. Comunque. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.